Oh! Fantastico! Oh! Muoiono di fame, uno di loro aveva un cellulare del cazzo Sai, avrei tanto voluto che me lo avessi chiesto prima di andare fin laggiù Oh, Cristo Santo, io non devo chiederti un cazzo, Ashley Era una vittoria facile e ho agito Visualizzazioni? L'hanno postato ieri sera e l'abbiamo rimosso solo 17 minuti dopo Ma ci sono state alcune ripercussioni Ripercussioni D'accordo, va bene, va bene Allora, sono sceso di un punto? Due e mezzo? Due? No, nove e mezzo Nove e mezzo Nove? Nove punti e mezzo? Ecco Che cosa? Che stanno accusando? Me? Oh mio Dio, stanno protestando contro di me Sono stati alla torre tutto il pomeriggio Che cazzo non me l'hai detto? Dio, maledizione Quei bastardi hanno capito che ho ammazzato quello stroncio per loro? Che cosa pensano che significhi salvare l'America? Le pubbliche relazioni stanno abbozzando una risposta Ammissione, scuse, azione No, 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 vogliono delle scuse No Indici una conferenza stampa E la sistemerò da solo Beh, il signor Edgar L'ufficio legale? Vorrebbero che la tua posizione ufficiale fosse no commente per ora Per favore, niente stampa Finché l'unità di crisi non avrà una strategia percorribile Corribile, ok? Brutta giornata? Ehi, io sto con te Fanculo quegli ingrati bifolchi col pannolone Sai, c'è un modo per risolverla Non mi serve il tuo aiuto del cazzo Certo, infatti te la stai cavando alla grande da solo Beh, sono qui se ti servo